signori amici siamo in aereo siamo pronti per volare a new york la coperta il computer quasi vedono i film dopo vi faccio vedere e poi speriamo che si fanno mangiare mangiare ravioli verdura cookie vino rosso mentre si guarda un bel film buongiorno da new york allora che ne dite spettacolare ragazzi più belle più grande di quando pensavamo fa molto freddo rispetto alla california c'è molto più casino ma è gigantesca bellissima ragazzi siamo a central park fa freddissimo andiamo allo zoo si dopo ti porto ti porti oh c'è uno scoiattolo c'è uno scoiattolo per tutti gli amanti del natale l'albero più grande del mondo rock bellel center lo accenderanno il giorno come meno detto il più grande del mondo oggi stiamo andando a visitare la statua della libertà che si trova è questa cosa qua questa nel frattempo abbiamo fatto un tic toc perché si vede tutta mezza manhattan niente è stato della libertà perché oggi è il giorno del ringraziamento proprio vicino a times square mamma mia ragazzi qua c'è il cesso c'è il bagno lo faccio vedere e questo è il cesso questo è il cesso non lo so vai qua un po' di lavandino e questa è lei dai andiamo a dormire buonanotte good night vlog di oggi mangiamo in un ristorante a little italy a manhattan adesso vi vloggo un po' tutto per cominciare ci hanno portato pane e olio vabbè abbiamo ordinato una coca e ci hanno dato sentimenti un po' di acqua mia moglie sente freddo prego prego altra acqua yes ci siamo spostati perché mia moglie sentiva freddo dopo dovevamo litigare perché io non so scegliere i posti ci hanno messo sotto questa stufetta oh yes bolognese 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 thank you very much napoli 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 americana americana eh vabbè ricetta americana io mi mangio la bolognese non credo si chiama scarpetta questa però una cosa più grande uno scarpone 43 dollari e un centesimo mi sembra un prezzo ragionevole non ragionevole siamo giunti al termine di questo fantastico viaggio in america eh già merita è finita è finito il viaggio questo viaggio però abbiamo tante altre nuove avventure che si aspettano a me giustare questo ciuffo vi salutiamo con questo bel tramonto se si vede non si vede è un tramonto comunque ragazzi e niente chiudiamo? chiudiamo? è stato un piacere